Il nome l'aveva scelto lei. Arturo! Che era mia. Non pesava niente. È arrivata. L'ho sistemata nello stanzino. Là c'è il bidet. Quando ti devi lavare, puoi usare l'acqua del bidone. Le tue cose le puoi mettere qua. Le birre sono del porco. Non glielo diciamo al porco. Che scampi di lui, eh? Come un piccerito. C'ha i peri sulle braccia, mezzo alle gambe. Poi la barba gli cresce, poi la minchia. Ma lui non cresce. Forse hai trovato un posto dove può andare. Ma decidi sempre tutto tu. Quando uno deve restare, quando uno se ne deve andare. O per andare contro la mia. Conto fino a tre. Uno, due, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Somiglia a tua mano. Cento, 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 guarda. Cento, uno, cento, due, cento, tre, tantun, quattro, cento, cinque, 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 cinque. Cinque, cinque, cinque. E sentirai di non avere amato mai abbastanza. Non mi piacere, non mi piacere